Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi, soluzione, oggi parleremo di genetica che cosa ha che vedere la genetica, il famoso DNA, la famosa elica, i famosi cromosomi, la famosa voglia di frago, la fisica sulla pelle del bambino con l'ipnosi, dici è severa e professionale ragazzi, che cosa ha che vedere con il potere della parola di fatto perché dire ipnosi è uguale a dire suggestione, che questo è il segreto dell'ipnosi vera e professionale non è mettere in uno stato di trance, di rilassamento come predicano tutti i guru anche nel mondo dell'ipnosi non è quello che fa la differenza, è saper dare la suggestione ad hoc, la suggestione giusta con il metodo giusto questo è il trucco, il segreto dei segreti e che pochi dicono, ora tornando alla genetica gli scienziati, studi scientifici, eccetera, hanno dimostrato che i geni si trasmettono da padre in figlio più o meno, in base alle probabilità, alle chance ma non dicono che la genetica, i geni sono anche un insieme di emozioni, pensieri, parole, modi di fare perché la percezione del popolo, della gente sulla genetica, sul DNA è un discorso prettamente fisico come ci hanno indottrinati, manipolati a pensare e a percepire sull'essere umano sì o no? È vero o no? È verissimo però nessuno dice che come si trasmette la voglia di fragola sulla pelle del bambino nascituro così tu trasmetti, mamma, papà, anche le ansie, le depressioni, gli stati d'animo che vittime di altre vittime come una catena di Sant'Antonio trasmetti anche alle generazioni future la soglia al rischio nell'investire, nell'intraprendere, la sicurezza, le paure varie e compagnia bella queste cose non le dice mai nessuno, perché non le dice mai nessuno? Perché l'uomo da circa 4-5 secoli da quando ci fu Isaac Newton viene visto come una macchina, ok? Soprattutto dall'Occidente ma adesso anche dall'Oriente, macchina e non come mente, corpo e spirito, macchina e la macchina naturalmente riguarda la meccanica, il fisico, il corpo, la terra e non il cielo rifletti su queste parole ora, la bella notizia, la novità delle novità, il segreto dei segreti è che tu puoi spezzare questa catena non dar retta al guru XYZ, al guru bla bla che dice bisogna accettare, abbracciare, accogliere non accetti nulla, io sono un mentore ragazzi io le ho sperimentate su di me, persona ansiosa, studente, lavoratore senza una lira in tasca su centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero, ansie, paure, depressione, tristezze che più ne ha più ne ha metta lì, io le ho sconfitte con l'ipnosi, le ho fatte sconfiggere con l'ipnosi, vera e professionale, ha moltissima gente di buona volontà che le ha provate tutte senza riuscirci, poi c'è stata quella fetta di gente che ha paura, che non vuole, che non ci crede, che è scettica, che è piena di sensi di colpa, che inconsciamente vuole punirsi e continui così, anche se gli spieghi che anche se non vuoi con il mio metodo puoi farcela lo stesso, però ognuno ha quello che si merita, vero? Che causa del suo mal pianga se stesso, certo se tu vivi con un tuo caro, una tua cara, nella stessa stanza, nella stessa casa e che non vuole avere aiuto da parte di nessuno, non vuole uscire da casa per andare da qualche esperto, eccetera eccetera, con il mio metodo puoi aiutarla anche se non vuole, devi soltanto provare, hai speso un sacco di soldi, Dio santo, se è un discorso economico, puoi anche usare la tua voce senza spendere una lira, scrivimi e ti risponderò gratis come fare, però smettila di raccontarti la storia, perché tu sei la storia che ti racconti da quando sei su questa terra fino ad oggi, rifletti che cosa ti ripeti, come facevo io tanto tempo fa che mi raccontavo la storia del destino, che la mia vita era già stata scritta, destinata, bla bla bla, famiglia povera, bla bla bla, famiglia di emigranti, bla bla bla, non è per tutti, bla bla bla, i ricchi si sono diventati ricchi perché hanno rubato, bla bla bla, perché sono fortunati, bla bla bla, perché quando si deve morire si deve morire, bla bla bla, quando il signore ci chiama ci chiama, bla bla bla, le malattie non è colpa nostra, bla bla bla, e adesso ho scoperto da qualche anno a sta parte, soprattutto quando sono diventato professionista dell'ipnosi vera e professionale sulla mia carne, sul mio corpo, sulla mia vita, sulle mie attività in Italia e all'estero, che era tutta fuffa, da qui parte tutto, da qui che tu ci creda o no, da qui, da questo grande potente computer che hai tra queste due orecchie e due spalle, che hai anche te che mi stai ascoltando e continui, 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 io sai perché mi sono affacciato all'ipnosi, lo dico spassionatamente, perché le avevo provate tutte senza nessun risultato, allora mi sono detto, caspita, peggio di così dove posso andare, ho iniziato la PNL, soft, poi ho iniziato il viaggio del Salmone, sono passato poi all'ipnosi conformista e commerciale, che ha dei buoni risultati, nessuno dice il contrario, fino a sposare il non plus ultra, l'ipnosi di Los Angeles, l'ipnosi l'ipnosi che io poi ho coniato di ICS, l'ipnosi della dottoressa Rina Brunini e del professor Michelangelo Garai, che sono miei mentori, miei maestri, che tutte le mie opere non sono altro che per il 90% frutto del loro lavoro di più di 50 anni a sta parte, in America Latina, Los Angeles, a Hollywood, a Beverly Hills, con gente con star hollywoodiana e con gente bisognosa e poveracci, per cui sono state testate, inoltre nelle mie associazioni i prologi associati di Los Angeles, ci sono medici, scienziati, psicologi, psicoterapeuti, personale non esperto neanche di materia sanitaria, ok? C'è di tutto, c'è di tutto, perché Los Angeles, per chi non lo sapesse, è la patria della libertà mentale rispetto ad altri paesi, ok? E collaborando sempre con i medici, nessuno dice il contrario ragazzi, si deve sempre collaborare con i medici e la medicina, perché una cosa non esclude l'altra, benissimo, per cui la genetica non è altro che una trasmissione di geni fisici, mentali e spirituali, ok? Questa è la genetica, che tu ci credono, per cui attento quando trasmetti ai tuoi figli e soprattutto sappi che oggi, a prescindere dal sottoscritto, hai uno strumento potente che è l'ipnosi vera professionale per liberare dal passato negativo delle tue generazioni, dei tuoi antenati, i tuoi figli, solo se e solo se lo vuoi e lo vorrai, ok? Cioè non lo vuoi, non puoi fare nulla. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, gratuitamente, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnosiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione dicesse del dottor Claudio Saracino e facere condividi con amici, parenti, perché può essere quel quid, quella molla che può cambiare la vita a te, tuoi cari, e non lo dico tanto per, ripeto, grazie a Dio non ho bisogno di mangiare e non faccio ciò per mangiare, a prescindere dal fatto che c'è pure del batteriale a pagamento, non mi interessa nulla, puoi andare anche da un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona, che tu ti trovi a Parigi, a Milano, a New York, a Hong Kong, a Canicati, dovunque tu voglia puoi andare, ok? Non mi interessa, a me interessa che tu sappia che c'è oggi questo strumento che si chiama ipnosi, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi da spettacolo e che può veramente cambiarti da così a così, dal negativo al positivo, senza mai, senza se, come è successo il sottoscritto. Io ci ho messo dieci anni per stare qui davanti a te, a filmarmi, perché ho una posizione da rispettare, pur essendo un professionista dell'ipnosi sono anche un imprenditore a nove cifre da più di vent'anni e ho molta attività in Italia e all'estero, ma sono qui perché voglio darti quella chance che ne dica qualche guru blasonato, bla 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 bla, parole, paroloni, ma fatti, fatti, mi dimostri con i fatti, risultati, la gente si è stancata ragazzi, come mi ero stancato anch'io. Prendi il lato buono delle mie parole, non mi interessa, giudicami e visite anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di Cessere, dottor Claudio Seracino e adesso sono anche su Spreaker, un podcast che puoi scaricarti, magari sei in macchina e ami ascoltare la mia voce, ok? Escrivimi ai prologi associati che oggi ho la libro.it e ti risponderò gratis, dovunque io sia nel mondo ti posso rispondere, grazie a questa grande tecnologia che si chiama internet. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Seracino e alla prossima.